multiple control quattro assi vengono messi nel centro del mazzo di carta in questo modo come si può vedere e si perdono nel mazzo di carte tagliando più volte basta un gesto e gli assi tornano in cima come funziona questa tecnica tecnica molto molto usata nella carta magia abbastanza semplice che può essere usata non solo per quattro assi ma anche per quattro carte scelte tre quattro carte cinque carte quante carte vogliamo insomma vediamola innanzitutto quattro assi in quattro punti realmente differenti del mazzo di carte e si mostrano impugniamo come per eseguire un indus shuffle spingiamo in avanti la prima carta o possiamo farlo anche con l'intero mazzetto quindi lasciamo cadere il mazzetto come dovrebbe effettivamente essere lasciato cadere mazzetto siamo in questa posizione quindi sempre i quattro assi sporgenti e sporgenti più o la carta o il mazzetto a questo punto la mano sfida soltanto queste carte sporgenti che cosa accade i quattro assi sono insieme in cima e completiamo il miscuglio l'indus shuffle facendo questo gli assi vengono in in cima vediamo un attimo di nuovo quattro assi così quindi si lascia cadere si sfila e si continua ve lo faccio un'ultima volta fatto come dovrebbe essere quindi in movimento reale così si mostrano gli assi si perdono mazzo aggresso e gli assi salgono movimento impercettibile una tecnica fantastica che dire un ottimo controllo ciao ciao